Corazia si trova in via Cardarelli a Campobasso un posto dove mangiare e sentirsi a casa la nostra cucina si basa su tre elementi la stagionalità del prodotto, la freschezza del prodotto e il prodotto del territorio soprattutto Corazia è un'antipasteria a braceria siamo soliti preparare antipasti variegati adesso andiamo a vedere la preparazione della crostata salata, gorgonzola e zucca la stagionalità A caballo vamos pa'l monte 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 Adesso andiamo ad aggiungere la crostata salata al nostro tagliere ed è pronto Provate anche voi a farla a casa vostra Iguajiro e carretero E nel campo vivo bien Perché il campo è se le ven Mastendo del mondo entero A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Llamé al mondo è un liberdiano Recoge frutto di un sudor A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Grazie a tutti